certamente è il primo cittadino va bene e poi abbiamo un grande camminatore e lui è quello che ha camminato forse un po di più insieme ad alcuni amici di sia maggiore che sono lì che hanno fatto due volte il cammino di santiago eccoli franco e teresa allora san franco san franco ha fatto veramente tantissimo santiago e poi adesso si sta preparando anche per un cammino incontinente di nuovo quindi noi abbiamo pauli lattino tonara arizzo di larza norbello di larza norbello bon arcano di larza narbolia silì narbolia zerfario e poi continuando genova zerfario ardauni poi neoneli terralba vero terralba fondi e poi abbiamo bon arc va un lato e poi abbiamo pro pro prom svizzera la svizzera ecco e via vienna non ho recepito comunque teresa new chatel va poi sia maggiore abbasanta zuri ghilarza busacchi torino torino nuracchi ponni busacchi aido maggiore allai 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 tutti voi benissimo e anche nughedu abbiamo dimenticato nughedu perfetto allora come siamo soliti adesso dopo le presentazioni partiamo con partiamo con la preghiera del pellegrino che abbiamo composta proprio la preghiera del pellegrino del guilcer barigato che trovate in ultima pagina di fronte a questa stupenda fotografia dove c'è una raganella rocciosa enorme che si vede soltanto in alcuni pili dell'anno quando appunto ancora il muschio è verde verdissimo adesso noi passeremo di fronte a questo spettacolo naturale però non sembra più un rospo adesso perché è diventato di un altro colore però l'invito è a venire a marzo gennaio febbraio e vedrete questo spettacolo allora preghiamo insieme ringraziamo il signore e chiediamo a lui aiuto nel cammino della nostra vita e in questo cammino che stiamo compiendo oggi o dio creatore e signore di tutte le cose tu accompagnasti i figli di israele verso la terra promessa sempre tu guidasti abramo nel cammino intrapreso sulla tua parola e fosti sempre tu a indicare ai magi la via da seguire lungo il cammino verso betlemme signore gesù nostro fratello che sei stato compagno di viaggio per i discepoli di emaus lungo i sentieri della delusione dello sconforto ti chiediamo di non lasciarci mai soli non permettere che ci separiamo da te via verità e vita spirito santo ti chiediamo di illuminare il cammino incerto della vita mentre ci accompagni lungo i cammini del guiccio erbarigado donaci la tua benedizione affinché ricolmi dei tuoi santi doni possiamo condividere con tutti la gioia di vivere nella tua amicizia come figli amati seminando bellezza e gioia nella vita di ogni giorno laudato sì mi signore ame può dire che insomma questo cane ci dice che non c'era solo un cane e va bene allora qui di fronte a noi abbiamo questa roccia incredibile e noi passeremo proprio sull'altro sull'altra riva del fiume ecco dobbiamo arrivare lì dall'altra parte poi proseguire ancora per il cammino ci dici due parole su questa su questa casa sull'albero perché stiamo partendo proprio da qui si ci riporta indietro